E' una città commossa e sconvolta, quella che sta partecipando al dolore per la morte della piccola Carola Benedetta Catanzaro, la bambina saccense che avrebbe compiuto dieci anni tra poche settimane e che è deceduta ieri all'ospedale di Cristina di Palermo, dove era stata trasportata d'urgenza a causa di un aneurisma cerebrale. Ad essere grande commozione è stata anche la decisione dei genitori di autorizzare l'espianto degli organi da parte dell'equipe medica dell'ospedale palermitano. Un gesto straordinario e di grande altruismo che nel dolore immane di una famiglia genera la speranza di un futuro migliore per quanti riceveranno gli organi del piccolo angelo. La mia principessa è andata in cielo, ma grazie a lei vivranno altri bambini, così è scritto la mamma di Carola Benedetta nel gruppo WhatsApp dei genitori dei bambini della scuola elementare del primo circolo didattico Plesso di Via Catusi. E in questa frase sta tutto il senso della generosità e dell'amore per la vita, seppure nella tragedia personale di un'altra mamma coraggio di Sciacca. Un altro esempio di amore infinito dopo la recente scomparsa di Gisella Di Mino, la donna che ha fatto tutto e dato tutto per consentire al figlio di sopravvivere. Carola Benedetta Catanzaro era una bambina di una intelligenza straordinaria e vogliamo ricordarla anche oggi riproponendo il suo intervento qualche settimana fa alla nostra trasmissione Vespera al Cinema dedicata alla tematica della tutela dell'ambiente che aveva registrato la partecipazione dei bambini della scuola di Via Catusi. Catanzaro, carola Benedetta, seguendo l'esempio di Biagio Conte, noi prendiamo i tappi delle bottiglie e le portiamo a scuola fino alla fine dell'anno, poi le diamo alla parrocchia di San Calogero che lo danno a Biagio Conte. Vogliamo ricordarla così la piccola Carola, rinnovando ai genitori le più sentite condoglianze della nostra emittente.